Presentato questa mattina alla stampa Antonio Zaffiri, candidato alla presidenza della provincia di Pescara. Zaffiri, 54 anni, sindaco di Collecorvino al suo secondo mandato, è appoggiato da Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, Udc e Azione Politica e rappresenta, con 109 firme raccolte, il nome di un centrodestra ricompattato e che cercherà, già da questa elezione provinciale, di mettere le basi anche per l'affermazione alle prossime regionali di febbraio. Per quanto riguarda la candidatura della coalizione di centrodestra, è perché hanno trovato unità, si sono stretti intorno al mio nome ed io ho posto la condizione della compattezza e l'unità del centrodestra, perché per il centrodestra è anche un esame di maturità, se posso definirla così, questa elezione, perché è propedeutica poi per affrontare le altre competizioni elettorali. Ovviamente le problematiche sono molteplici, ma di tutta la provincia e non solo di una parte della provincia. Se sarò eletto, la prima cosa è scontata dire la viabilità e la messa in sicurezza delle strutture scolastiche, ma secondo me non è solo queste due cose. Secondo me la cosa più importante è la riorganizzazione della provincia. Riorganizzazione perché se vogliamo affrontare, se vogliamo raggiungere dei risultati importanti è organizzare la macchina operativa per poi affrontare quelle priorità, che può essere la viabilità e le strutture scolastiche.